Grazie e benvenuti dal vostro Dark House 92 Oggi sono qui perché voglio portarvi questa partita in duo con uno del mio nuovo team, quindi Norway Si chiama precisamente Acird Vi lascerò il link suo in descrizione del canale, mi raccomando passateci È un bravissimo ragazzo E niente raga, che vi devo dire? Come da titolo sapete già quante kill abbiamo fatto Abbiamo fatto 21, è stato molto bravo anche lui Veramente un ottimo player Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video live ragazzi Bella, dal vostro Dark House 92 Ciao Allora no, beh, se dobbiamo vincere la traialdo un pochino Beh, non è che dobbiamo vincere con 10-12 kill, eh Vabbè ho capito, ho capito Un po' di kill le dobbiamo fare però 37 Eh, facciamo 37 kill, eh Minchia, 37 ma anche squadre, riusciamo a fallare Ma non è che 37 squadre le ho fatte? Vabbè sì, ma con che team, non con i nuovi No, non ho parole Vedi la cosa sbagliata cos'è, che scendiamo in parti diverse Una terra Una terra Dov'era? Bu Guardali, 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 S-105 È fermo No, 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 sì, ma sta per prendere il... Sta curando No No Prendi, io lo prendi, io lo prendi, lo ce lo fai Tu sì, io no Che culo Eccolo Non lo mollo, eh, non lo mollo One hit, one hit Vabbè, tanto non lo mollo, tranquillo One hit ancora, un'altra volta aiutato E tu hai, un easy kill Ho ucciso Bello Allora, non c'è chi è andato da sud, di parte a me One hit Eh, modi, aspetta che arrivo Prendi da destra, prendi da destra Dove? Ok, ci sta andando Li vedo, ce li ho davanti No, l'ho lisciato Sta mirando questo qua Dov'è? Sparagli, sparagli Favagli S Sudan Autore La Favagli Favagli io e che tu ciao bomba del nonno quello che ho ucciso duro no no la pompa come no porco 2 ma tutti i babbistori che cacchino so meglio ammighe mi sono lamentato era una fermazione esatto prenda me palmetto ah eccolo liscio liscio e che cacchio vittato eh l'ho vittato io questa si che è bella come clip la che te lo fai gli ho fatto one shot e one hit ce la fai? gg mamma mia che cecchina t'ho fatto raga in chat ce l'aveva un bomba del nonno? si questa si finalmente finalmente quando non vedi la gente con il con il oh ok hanno driftato disegnano sparo di fronte a me mi stanno sparando l'hanno messa a terra no vabbè non ci credo no 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 quel fucile pesante no si è che no pensavo l'ho visto l'ho vista a terra raggiù dove sta? eh sopra la montagnetta sud mhm serverebbe un rift cacchio ah liscio attento me lo buscio io questo sotto pensa a quello sopra tu ok minchia ma altra gente ci sta tipo di tanta me no buono ucciso headshot una calciatrice un hit di la calciatrice di fronte a te l'ha sturbi quella è un easy kill terra cg ucciso push fatta di roba qui dentro scudini ne hai? eh si ah uno te ne serviva veloce no ma che che me la liscia ok ecco lì qua sotto di noi sotto di noi coordinate nord 330 ok una salonda g faccio gli shield cinque pronta me la mi devi dare coordinate z eh nord scusami eh non sono sbaglio ok le congelanti ok devo andare davanti a noi nord 15 si no adesso 345 sono spostato una volta si adesso è quasi nord ovest due tanto eh grazie perché mi chiudi no mi hanno buttato a terra fatti quello aspetta mi hanno mi hanno bloccato vai attento è lì è napo in napo in napo in napo si sta imparicando è sotto di te è sotto di te è sotto di te sta venendo da me sta venendo da me zio no no è dietro copri 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 ucciso faccio aspettati gli scildini ah c'è anche la snort la posta si 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 vai 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 mi faccio il volo il medikit passami il medikit ok mi faccio la snort 10 kill 6 qui 16 siamo si facciamo a fare le 20 eh mhm sono solamente le persone raga questo è acerto tra gli arder saluti bella christian eccolo dove nord visto da dove non lo pushare da solo quittato Aiaia mi è fatto male Non ha fatto Vieni qua adesso Gli hai messo la trappola pensando di ammazzarlo Bella, c'è bella no? Tengo gli scudini, molto meglio Io ne ho dieci Però sono meglio comunque per curarti Dove? Stanno giampando Mettendo una terra che lo riscaccia Vai 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 A destra Ho tirato io giù tutto GG Si 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 stai attento Era proprio con sbagliato quel razzo Esatto Vai triciamo a fare anche i 25 kill forza Non so quante ne abbiamo Vai Tano Ma si senti dopo la caduta Gli devo dar prendere la kill Ho preso la kill Hittato Hittato Dammi uno Ucciso uno sotto C'è una specie di sky base Dove sta? No non sta lì Non sta lì è qui Oh 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 Da me da me da me da me A nord Hittato 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 Non c'è la jump C'era la jump La buscio Vai insieme Tutti te Non bloccato La faccio così GG 21 kill 21 kill Bitch GG Secondo game Thank you Thank you Thank you 21 bomb Bella 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 Ragazzi Voglio ringraziare tantissimo Aspetti che non mi ricordo il nick Acid Acid Vi lascio il link in descrizione del suo canale Mi raccomando passateci E niente Ci vediamo ad una prossima win Bella ragazzi Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate di questa partita E secondo voi come abbiamo giocato Bella Ciao 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 Al prossimo episodio